Questa sera alle 21.10, The Mexican. Ci vediamo? Un mese con Richard Gere. Se scappi ti sposo. Sabato 13 marzo alle 21.10 su Paramount Network. Signore Dio, signore dacci la piozza, un po' di fortuna e noi faremo il resto. Sopravvivere a un'altra statunità. Amen. Amen. Contro chi combattiamo? Contro tutti. Non esistono uomini buoni, ma alcuni di noi fanno di tutto per essere buoni. In Prima TV, Yellowstone. Da venerdì 19 marzo alle 21.10 su Paramount Network. Agli avversari attaccano senza farsi vedere. Beh, basta una porta. Sporca casa e con lui i batteri. La migliore in campo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Dall'antico caseificio Valcolatte nasce Ricotta. La Ricotta con due C. Fatta solo con latte italiano. E da oggi trovi anche lo spalmabile. Con Ricotta. Il gusto raddoppia. Vuoi svuotare l'armadio e riempirti le tasche? Ti svelo un segreto. Con Vinted puoi. È facilissimo. Guarda. Visto? No, non è magia. È Vinted. Su Vinted vendi in un attimo. Fai una foto al tuo articolo. La carichi sulla piattaforma. E vendi al prezzo che decidi tu. E sai qual è il bello? Non ci sono commissioni sulle vendite. Quello che guadagna è tutto tuo. Vinted. Scarica l'app gratuita. Non lo metti? Mettilo in vendita. I pomodori. Quelli buoni italiani. Senza cirio. Senza cirio. Senza cirio. Senza cirio. Volevo dire, non possono fare a meno di cirio. Perché cirio era già Italia. Quando l'Italia ancora non c'era. Come natura crea. Prendete 300 grammi di zucchero. Aggiungete le uova al composto. Ehi, piccolo chef. Che è successo? Ho perso i miei Filman. Ma voglio vederti lo stesso. Ora sistemiamo tutto. Se per i tuoi occhiali, se li rompi o se te li rubano, da Filman te li danno nuovi. Ci vediamo da Filman. Croccanti pepite di cioccolato. Tra due fette di soffice pan di spagna. Kinder pane cioc. Cioc. Si gioca. Ci siamo accorti che qualcosa non andava perché Giorgia a undici mesi non riusciva a stare in piedi e spostava le sue gambe con l'aiuto delle mani. Fuma non è in grado di bere da sola, di mangiare, di vestirsi. Una diagnosi di malattia genetica rara genera smarrimento e dolore. Purtroppo in quel momento non vedi futuro. Tante persone stanno offrendo il loro sostegno continuativo alla ricerca Teleton per aiutare questi bambini e i loro genitori. Ho deciso di sostenere Teleton perché credo di essere più fortunato di tante altre persone. Io credo che sostenere la ricerca sia fondamentale per dare una speranza alle famiglie. Chiama l'893-8366 e dona anche tu 10 euro al mese per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche. Sapere che sto facendo qualcosa di concreto per tutti i bambini che sono affetti da una malattia genetica rara è meraviglioso. La donazione è un qualcosa di reciproco. Si dà ma in realtà si riceve. Chiama adesso l'893-8366 e sostieni la ricerca Teleton con 10 euro al mese. Forse la cosa più bella è che ho la certezza che ciò che ho donato rimarrà per sempre mio perché lo ritroverò nella ricerca scientifica che avanza, nel sorriso meraviglioso di Uma, nelle parole dei suoi genitori. Adotta il futuro di molti bambini. Chiama l'893-8366 e dona 10 euro. La mia, il caffè è un piacere. Vuoi anche tu l'espresso come al bar? 800-530-531. Con 49 euro riceverai 120 capsule e la macchina non la paghi. Con Chi Amor di Caffè l'assistenza è garantita e per te la macchina del caffè non sarà più un problema. Chiama subito il numero verde gratuito. 800-530-531. Chi Amor di Caffè. Ho sempre creduto che bastasse una persona per dar vita al cambiamento. Ma è solo insieme agli altri che puoi realizzarlo. Per questo c'è AXA. Il tuo balsamo sa fare questo? Da capelli crispy e incredibilmente morbidi. Pantene 3 Minute Miracle può morbidezza da farrucchiare dalla prima applicazione. Senti la differenza con Pantene. Non importa quanto hai girato il mondo. Quali continenti hai visto e quanti luoghi hai visitato. Non c'è nessun posto come casa loro. Arriva MTV Cribs Italia per scoprire come vivono le celebrities. Benvenuto a casa delle star. MTV Cribs Italia in esclusiva da mercoledì 17 marzo alle 21.10 su MTV. AXA. 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 AXA.